Il 45esimo presidente degli Stati Uniti è stata vissuta con attesa anche nell'isola dove vive una piccola comunità di americani. Oggi a Cagliari, all'università, l'analisi del voto con le possibili ripercussioni sulla Sardegna. Ma sentiamo Roberta Mocco. La vittoria di Trump ci dice che i cittadini statunitensi hanno voluto un forte cambiamento nella politica a livello nazionale. Hanno rifiutato l'approccio economico di Obama negli ultimi anni e cercano una protezione in campo economico. Brandon Connors è di Boston. È dottorando di storia contemporanea all'università di Cagliari. Stanotte ha messo la sveglia alle tre per seguire in tv il risultato elettorale. Stasera terrà un seminario per commentare il voto con gli studenti del polo umanistico. Non crede che la politica estera americana nell'era Trump cambierà molto per la Sardegna. Negli ultimi anni tra Stati Uniti e Italia c'è stata molta cooperazione sulla lotta al terrorismo. Da questo punto di vista non credo che la Sardegna sia proprio centrale. Forse altre regioni hanno una forte presenza americana ancora. Ma non credo che la Sardegna abbia da temere in questo proposito. Ancora è presto per dire quanto l'indivoco Trump terra fede ai suoi proclami di ritirare il trattato transatlantico di libero scambio fortemente voluto da Obama e Juncker. Ma Brandon è convinto che... Trump sarà di sicuro contrario al trattato per il libero scambio. Ha fatto la campagna elettorale con il messaggio del protezionismo per le industrie americane. Ma non credo che i piccoli produttori di formaggio della Sardegna abbia da temere da Trump. Credo sia più una retorica che un preciso metodo di politica.